Quando componiamo un profilo su social network, su una chat, o comunque ci rappresentiamo online, tendiamo giustamente a dare di noi quella che è l'immagine migliore. Questo lo facevamo noi ai nostri tempi, con i nostri mezzi, lo fanno giustamente i ragazzi, lo fate voi ragazzi nei social quando andate a costituire il vostro profilo. Però ricordatevi sempre che a parte questa operazione che è comprensibile ovviamente, però che i limiti non sono in assoluto sinonimo di deficit. Imparate ad amare i vostri limiti, perché la vostra autenticità, il vostro essere voi stessi si muove all'interno dei vostri limiti e non delle vostre potenzialità. I limiti quindi non sono i vostri deficit, ma sono letteralmente i vostri confini, quelli che vi definiscono in maniera autentica come persone rispetto alle relazioni con i vostri amici, con i vostri compagni.